Io sono molto contenta di aver intrapreso questa strada perché mi ha fatto scoprire dei lati di me che non pensavo. Infatti appena uscita dalle lezioni mi è venuta una voglia terribile di mettere in pratica e soprattutto di insegnare. Forse questo mi ha lasciato questo corso, cioè la voglia di cominciare a insegnare e trasmettere quello che ho vissuto io ai bambini ma anche magari alle persone più grandi con cui potrei venire in contatto. Quindi una bella prospettiva e anche una bella scoperta di me stessa perché mi sono rimessa in gioco.